Un appuntamento con la beneficenza, quello di sabato 29 ottobre in città con lo spettacolo di e con Mario Incudine dal titolo Mimì da sud a sud sulle note di Domenico Modugno con la regia di Monio Badia e Giuseppe Cutino. Prosegue infatti l'impegno del Rotary nella lotta alla poliomielite, una malattia che rimane endemica soltanto in alcuni paesi del mondo e che colpisce in particolare i più piccoli sotto i cinque anni. L'obiettivo infatti è quello di eradicare la polio nel mondo e anche il club Nisseno dunque organizza un evento per raccogliere fondi. La raccolta fondi Propolio Plus è una delle battaglie più importanti che Rotary International combatte da più di 30 anni e ha avuto grande successo da quando abbiamo iniziato a combattere questa battaglia. Infatti i casi nel mondo sono scesi per più del 99% e ancora restano un paio di paesi dove i casi purtroppo continuano a proliferare e da qualche mese a questa parte stanno spuntando dei casi anche nell'Occidente. Per cui non bisogna effettivamente abbassare la battaglia. Per cui come Rotary ci intestiamo questa battaglia e continuiamo a combatterla e invitiamo la cittadinanza a partecipare sia per la bellezza dello spettacolo e sia perché la finalità è veramente importante. Noi questa malattia l'abbiamo vissuta 40-50 anni fa ed era veramente brutta. Per cui non abbassiamo la guardia e continuiamo a combattere questa battaglia. Vi aspetto il 29 ottobre alle ore 21 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta dove porterò in scena Mimì da sud a sud sulle note di Domenico Modugno. Uno spettacolo bellissimo, particolare in cui racconteremo il primo modugno.